Disappunto del Comune di Pesce per la bocciatura della candidatura del MEFIT a centro per le vaccinazioni. L'amministrazione pesciatina con il sindaco facente a funzione Guia Guidi lo ha manifestato alla Regione Toscana in una lettera indirizzata dal Presidente Gianni e l'ASL Toscana Centro, condestinata dal Direttore Generale Paolo Morello Marchese. La candidatura del MEFIT era stata avanzata a novembre e nella lettera si sottolinea che la proposta era nata della forte convinzione del Comune di Pesce di far sottoporre con cittadini a vaccinazione nella loro città mettendo fine a quelle che vengano definite forme di nomadismo sanitario a cui sono sottoposti. In particolare il MEFIT era ritenuto adatto al sistema Drive-Thru, già in corso in 183 città che consente di effettuare un numero elevato di vaccinazioni con una gestione semplice e efficiente. La proposta avanzata prevedeva ingresso e percorso dedicato, area verifica e compilazione dei moduli, area vaccinale con 4 postazioni, area registrazione, area risosta post-vaccino e uscita dedicata. Con la previsione di riuscire a smaltire in 14 ore di servizio circa 700 vaccinazioni. Soluzione che secondo l'amministrazione comunale pesciatina consentirebbe di vaccinare non solo i cittadini ma gran parte della Valdinievo in tempi estremamente rapidi. La risposta stringata, sottolinea come di pesce, dell'autorità sanitaria è stata al momento su specifica indicazione regionale le proposte Drive-Thru non vengono sviluppate ma potranno esserlo in un secondo momento. La mancanza di scelte rapide e anche se necessarie innovative è la replica dell'amministrazione comunale ci espone tutti a responsabilità gravissime nei confronti dei nostri cittadini. In questo senso ribadiamo l'assoluta volontà dell'ente di individuare e mettere in opera uno specifico centro vaccinazione in grado di ricevere un adeguato numero di persone.